Elisabetta Gregoraci è di nuovo single, poiché si è conclusa la sua storia d'amore con Giulio Fratini, l'imprenditore fiorentino con cui è stata legata negli ultimi due anni. Recentemente si era parlato di un possibile riavvicinamento tra la subret calabrese e l'ex marito Flavio Briatore, ma in realtà i due non si sono mai completamente distaccati, complici le esigenze legate al figlio tredicenne Nathan Falco. Tuttavia, questa vicinanza non sarebbe stata ben vista da Fratini, insieme ad altri fattori che hanno contribuito alla rottura. I motivi della rottura tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini Ospite alla volta buona di Caterina Balivo, Elisabetta ha rivelato di non essere più fidanzata con Fratini, precisando che è stata lei a prendere la decisione, senza entrare nei dettagli. Secondo il settimanale Oggi, la rottura è avvenuta ufficialmente all'inizio di settembre, dopo un'estate segnata da litigi e incomprensioni. La gelosia della Gregoraci, insieme alla presenza di Briatore, avrebbe danneggiato la relazione, con Giulio che è più giovane di Elisabetta di 12 anni. Il magazine riporta che la separazione è arrivata dopo, una discussione animata, qualche lacrima e la consapevolezza che qualcosa si era spezzato in quell'amore a cui aveva investito molto. La mancanza di affinità tra i due, aggravata dalla presenza costante di Briatore, ha messo a dura prova il loro legame. Fratini, dal canto suo, ha una storia da latin lover, avendo avuto relazioni con diverse belle donne, il che ha alimentato la gelosia della Gregoraci. Il nuovo capitolo di Giulio Fratini, recentemente, Fratini è stato avvistato a Londra con una misteriosa donna durante la London Cocktail Week. Le foto esclusive di diva e donna rivelano una certa intesa tra i due, suggerendo che l'imprenditore abbia già voltato pagina. Ritorno di fiamma con Flavio Briatore, da parte sua, Elisabetta sembra riflettere sul suo passato con Flavio Briatore. Nonostante le voci di un ritorno insieme, i due continuano a mantenere una relazione amichevole, cenando spesso insieme a Monte Carlo e sostenendosi nei momenti difficili, come durante l'operazione di Briatore. Secondo oggi, Briatore sarebbe entusiasta all'idea di un riavvicinamento, ma per ora la Gregoraci sembra essere cauta. La recente conclusione della sua storia con Fratini ha lasciato il segno, ma in amore, si sa, tutto è possibile, e alcuni legami potrebbero riprendere vita in futuro.